Per me è una grande emozione, sono tornato in provincia di L'Aquila dopo tanti anni, conoscevo da 20 anni fa, torniamo ieri a vedere la città dell'Aquila, una ricostruzione meravigliosa dopo l'infelice terremoto del 2009 e oggi siamo in un posto meraviglioso, molto suggestivo con le scave, con tutta la storia e anche con la natura, penso che sarà un concerto molto molto speciale, almeno per noi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS